Eccoci qua, buonasera a tutti ragazzi qui è Mr. Lobb come sempre dal Minerva Studio e oggi ho deciso di mostrarti quello che è un processo di produzione all'interno del Minerva come si ragiona all'interno del Minerva e vedremo un progetto che abbiamo fatto con Lilvins che si intitola Un Posto nel Mondo e partiremo proprio dalla reference per poi arrivare man mano al prodotto finito e quindi andremo a fare un po' di discorsi pratici su quello che è tutta la fase di produzione ma prima di iniziare ti invito ad iscriversi al canale e ad azionare la campanellina in maniera tale da restare aggiornato su tutte le nostre novità parliamo subito del progetto, com'è nato questo progetto? questo progetto ha una storia molto lunga perché circa due anni fa, se non erro, Lil mi ha mandato un pezzo da mixare io gliel'ho mixato però questo pezzo non è più uscito non so per quale motivo non l'abbia fatto uscire e due mesetti fa ho ritrovato per caso, ma niente avviene mai a caso il progetto vecchio nei miei file salvati io ho detto wow ma perché sto pezzo è qua e non è uscito che è troppo bello, è una bomba e dobbiamo farlo uscire assolutamente allora ho chiamato Lil e gli ho detto guarda che c'è questo pezzo perché poi alla fine non è uscito facciamolo uscire perché secondo me questo pezzo qua spacca e questo brano aveva come base un type beat preso da youtube all'epoca io ancora non producevo, non avevo il team di produttori, facevo solamente mix e master quindi ho semplicemente mixato e masterizzato quel beat però questa volta ho detto senti guarda secondo me questo pezzo ha delle grosse potenzialità però se per te va bene io ti rifaccio la base perché non mi piace che esce un pezzo così forte con un type beat quindi io ti rifaccio la base e poi riadattiamo le voci su questo, sulla nuova base che io ti faccio in maniera tale che non perdiamo neanche tempo a riregistrare e tutto il resto Lil ha detto ok va bene fammi un provino e vediamo se poi mi piace o meno perché Lil è un tipo che si affeziona tanto alle basi questa è una cosa molto comune che capita quando si lavora in studio con delle reference perché il cliente ti manda dei provini e se uno che si affeziona tanto alle basi è molto delicato gestire anche questa parte per cui siccome io sapevo che era un tipo che si affezionava tanto alle basi ho detto ai ragazzi, ragazzi dobbiamo rimanere il più fedeli possibili al beat di riferimento perché poi ci sono anche altri artisti che ti mandano i beat e dicono va fai tu questo è solamente una reference per il resto fai tu mentre altri vogliono che sia il più possibile vicino a quel tipo di suono che ti hanno mandato loro e sul quale loro ci sono ispirati per scrivere fatto sta che abbiamo cominciato a lavorare e ora ti faccio ascoltare la reference prima qual'era la prima reference che è arrivata in studio e poi man mano andiamo a vedere come l'abbiamo costruita noi questo è poi ok quindi è un beat molto conscious che ha sostanzialmente due parti c'è la parte di strofa e poi c'è il bridge qua non era neanche ben definito strofa e ritornello si confondeva un po' con il bridge però questo è il mood non te lo faccio ascoltare tutto perché non ha senso però questo era il mood quindi ho detto ai ragazzi ragazzi dobbiamo cercare di restare il più fedelmente possibili vicino a questo tipo di beat qua in quanto sapevo che l'ill era uno che si affezionava alle basi per cui dobbiamo restare all'interno di questo mood non dobbiamo distaccarci tanto da questo suono e da questa sonorità la prima fase chiaramente in assoluto è quella della ricerca dei suoni bisogna stare là a ricercare quello che può essere l'ambiente più giusto oppure ci sono anche altre scuole di pensiero cioè prima si impostano gli accordi con un pianoforte giusto per capire un po' qual è il feeling dopodiché si passa attraverso i vari strumenti per capire quello che si avvicina di più io personalmente preferisco partire direttamente già da un suono fatto quindi da uno strumento che già porta l'ascoltatore all'interno di quel mood e non puoi cambiare di volta in volta perché poi a volte si può perdere chiaramente quella che è la strada quindi abbiamo fatto la base quella che è la nostra base che è in verde ingrandiamo un altro poco ok è questo riascoltiamo la vecchia il groove è essenzialmente quasi lo stesso sono gli touch che fanno delle cose diverse però essenzialmente il groove è lo stesso e questo è un punto molto delicato da andare a trattare perché se si cambia totalmente il groove di una reference chiaramente cambiando la parte ritmica si cambia tutto quello che è il corpo della struttura che lui ha usato per scriverci su cambiare un pad ok ci sta cambiare un piano ok va bene anche però se l'obiettivo è quello di mantenere una produzione molto vicino alla reference di partenza allora io personalmente parlando direi di restare sullo stesso groove poi può cambiare il tono del kick può cambiare il tono del clap magari invece di metterci un clap si mette uno snare va bene perché poi l'asta anche al produttore andare dietro a un determinato tipo di mood e di feeling però quantomeno la ritmica io tenderei a lasciarla così come era nella reference se invece il presupposto è quello di guarda qui c'è la reference puoi anche totalmente stravolgere il beat a me non interessa io mi fido di te fai quello che tu ritieni più opportuno allora in quel caso ma sono due sono due compiti diversi quindi noi siamo partiti da questo rode se non mi sbaglio è un rode che fa fa questi accordi che ci sono per tutto il pezzo poi nel ritornello c'è quest'arpa parapapapapapam con un pad reference a parte i livelli cerchiamo di matcharli ok come mood ci siamo poi c'è il bridge con questo pad su bass che in realtà è un basso non è un pad è proprio un basso lungo ok e abbiamo ripreso la struttura del bridge quindi questa è stata un pochino la sfida in questa produzione il compito era riuscire a ricreare il mood e poi dopo aver ricreato il mood montarci le voci sopra del pezzo vecchio e mandare una referenza al lead chiaramente come succede spesso e quasi sempre quando si fa un pezzo nuovo magari il pezzo era un po' vecchio il pezzo nuovo ci si montano le voci sopra chiaramente poi il beat siccome prende così tanto bene rispetto a quello vecchio al 99,9% le cose si riscrivono chiaramente comunque fatto sta che mando il pezzo a Lill la bozza è la base Lill è uscito pazzo super preso bene però ha fatto lo B guarda io mi sa che qui riscrivo il pezzo perché la base è troppo bella per lasciare quelle parole poi tra l'altro come capita anche spesso io sono cambiato non sono più quell'artista per cui voglio provare a riscrivere qualcosa vabbè fatto sta che riprovo a scrivere qualcosa finché poi manda in studio le separate del pezzo e a quel punto comincia la fase di mixing fase di mixing è anche questo punto ti porto passo passo all'interno del processo anche qua quando si mixa quello che dico sempre io anche ai miei studenti dico ragazzi quando mixate voi dovete tenere sempre in considerazione la visione del pezzo qual è il mood dove si vuole arrivare a parare che tipo di suono si vuole ottenere cioè il mix è il processo creativo finale della produzione dopo c'è il mastering ok anche però è tutto un proseguo c'è la produzione e poi c'è il mixing il mixing non può essere solamente una cosa tecnica dove vabbè metti quattro riverberi quattro equalizzatori e basta no il mixing deve essere un processo che va ad accompagnare va a portare a compimento tutto quello che è il processo il progetto iniziale altrimenti se il mix si pensa come due cose staccate come una cosa staccata dall'obiettivo la cosa non funziona e chiaramente siccome abbiamo prodotto noi e ho mixato anche io il pezzo è chiaro che io avevo già la visione finale del brano ok brano conscious quindi anche dal punto di vista della spazializzazione della riverberazione della voce bisognava dare una certa impronta un certo colore a quello che doveva essere il mix finale quindi con queste idee di partenza ho mixato e questo è il risultato finale porti passano le storie accumulate se mi perdo spesso nei ricordi mi perdo spesso a pensare cosa sarei stato se avessi fatto ma sono solo illusioni sono solo spettri il buio che mi affascina trovi comunque a luce ok quindi che cosa ho fatto sostanzialmente ho ricreato quest'ambiente questo mood che era stato suscitato dalla base l'ho ricreato anche con le sporche con le voci vedi molta c'è molta profondità nelle voci queste chicche che escono destra sinistra con questa distorsione in overdrive ancora una volta il mix deve essere una parte del tutto non una parte a se stante nei miei occhi occhi che non mentono occhi addosso sì ma questo già l'ho detto io che vorrei esprimere arriva il bridge esprimere ciò che muore dentro di me di me avere quel filo di voce voce per dirti che dire che la gente come me sogna sogna la gente come me lotta lotta la gente come me cerca solo un posto nel mondo e scusa se ogni tanto mi perdo che sono in continuo flendendimento con ciò che sono e ciò che cerco con ciò che trovo e ciò che getto nota anche qua lo stacco tra il bridge e il ritornello un posto nel mondo e scusa se ogni tanto mi perdo ok ci deve essere questo stacco dinamico tra bridge e il ritornello chiaramente quindi tutti questi accorgimenti devono essere presi in fase di mix in maniera tale che anche emozionalmente parlando il pezzo abbia un impatto ancora maggiore quindi ho fatto ho mixato il pezzo l'ho mandato all'artista come di solito si fa ci sono dei provini mi ha detto giusto un paio di cose da correggere poi abbiamo rifatto una parte della strofa no abbiamo rifatto un bridge perché andava registrato un pochino meglio però dopo questi piccoli accorgimenti ho rimandato il provino quando l'artista mi ha dato l'ok sono passato dalla fase di mix alla fase di mastering e questo è il mastering che ho matchato con il mix quindi avranno lo stesso livello mix e master perché voglio farti vedere una cosa anche dal punto di vista tecnico visto che chiaramente questo è un canale dove noi andiamo ad approfondire anche gli aspetti tecnici delle cose però ogni tanto è anche interessante fare un video del genere dove si spiega il processo che c'è dietro ad una produzione perché magari non tutti sanno qual è il processo che c'è dietro una produzione dalla A alla Z cioè proprio dalla reference fino al mastering alla distribuzione questo l'abbiamo anche distribuito noi è proprio perché magari qualcuno si occupa solamente di determinati processi c'è chi fa la produzione c'è chi fa il mix e quindi non riesce a vedere un collegamento unico tra tutti i vari tra tutte le varie fasi quindi a destra abbiamo il master a sinistra abbiamo il mix ora facciamo andare il master a destra il mix a sinistra il master guarda come passa il tempo passano i rapporti passano le storie accumulate se mi perdo spesso nei ricordi mi perdo spesso a pensare cosa sarei stato se avessi guarda cosa interessante tra il mix e il master sostanzialmente la curva è quasi la stessa a differenza qua c'è un po' di midrange in più rispetto al mix quindi c'è un'equalizzazione particolare nella parte di midrange e anche qua sulle alte c'è un'estensione della coda sulle alte altrimenti in al 99% dei casi mix e master vedi sono semplicemente questi piccoli accorgimenti ok manca un po' di midrange diamo un po' di midrange diamo un po' di apertura sulle alte però non vado a reinventare totalmente il mix perché se avessi dovuto reinventare totalmente il mix vuol dire che avevo sbagliato mix chiaramente il mastering non reinventa niente va semplicemente a illuminare determinate parti a correggere determinati errori però più di questo non fa va ad ampliare l'immagine stereo l'immagine stereo che tra mix e master è notevolmente cambiata ora ascolterò il mix master leggermente più aperto è più focalizzato il low end più focalizzato al centro e il resto un po' più aperto però questi qua sono i piccoli interventi che si fanno tra mix e master proprio perché non ce ne deve essere bisogno se ce ne è bisogno c'è qualcosa che non va ok bene ora ti faccio ascoltare il master a livello suo e possiamo fare anche un'altra 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 valutazione tecnica guarda questo è il master come vedi il master non è il mattoncino unico tutto quanto tirato su ma è un master abbastanza dinamico chiaramente perché il pezzo ha dei momenti che devono essere rispettati così come se io avessi mandato avessi fatto un master totalmente piatto non sarebbe arrivata da nessuna parte ma nonostante questo nonostante questo ti faccio vedere lo spesso a pensare cosa sarei stato se avessi fatto ma sono solo illusioni sono solo spettri il buio che mi affascina trovi comunque luce nei miei occhi occhi che non mentono occhi addosso sì ma questo già l'ho detto siamo intorno al meno 9 di Loofs nello nello short term meno 10 sul lungo termine ma arriviamo anche a me quindi questo per farti capire che è un mastering molto loud che però allo stesso tempo è anche tanto dinamico per cui non è vero che non si possono fare le cose loud e dinamiche perché la dinamica è una percezione non c'entra niente con effettivamente i Loofs che tu vedi sul sul meter però questo è un altro discorso e ovviamente se sei interessato ad approfondire i temi di Mix e Master trovi in descrizione i link per accedere ai miei servizi di coaching potremmo dire ai miei percorsi privati ok bene quindi detto questo poi chiaramente abbiamo esportato e distribuito da dove siamo partiti siamo partiti da qua siamo arrivati qua guarda come passa il tempo passano i rapporti passano le storie accumulate se mi perdo spesso nei ricordi mi perdo spesso a pensare cosa sarei stato se avessi fatto ma sono solo illusioni sono solo spettri il buio che mi ha fascinato ok quindi hai visto anche tu tutto il processo se anche tu sei interessato a hai un'idea come l'aveva lì di un pezzo però non riesci a concretizzarla e a portarla effettivamente sul mercato musicale questo è quello che noi siamo in grado di fare al Minerva Studio partiamo dalla tua reference andiamo a riprodurre a riprogettare tutto la strofa tutto il beat tutta la base e poi da lì possiamo andare a costruire quello che sarà il tuo prodotto finale da andare a immettere sul mercato musicale per cui in descrizione trovi il link per se sei un artista per accedere ai nostri servizi di produzione mix e master come studio questo è quello che siamo in grado di fare naturalmente ti lascio il link in descrizione anche del pezzo intero così te lo vuoi ascoltare tutto perché altrimenti qua avremmo perso tre ore solo ad ascoltare tutti i brani ok da Lobito e dal Minerva Studio è tutto ci vediamo alla prossima ciao chiuso nel Minerva Studio studio cucino sto mix cucino sto beat c'è lo beat ho fra dei mudon ti caccia la hit ti caccia la hit c'è lo beat c'è lo beat